Parliamo di un progetto abruzzese d'eccellenza che riguarda la danza, dei videocorsi che sono addirittura stati scelti da Google Play come esempio mondiale per quanto riguarda i tutorial della danza. Sì, Dance TV è un giovane progetto abruzzese finalizzato alla diffusione, all'insegnamento della danza a livello globale con le moderne tecnologie che grazie al dinamismo di tutto il nostro staff ha raggiunto livelli di eccellenza che poi sono stati scelti, selezionati da Google Play e quindi a questo punto diffusi in tutto il mondo. Qual è la particolarità di questi corsi? La particolarità è la suddivisione di questo format web televisivo in diverse sezioni come per esempio le lezioni live oppure le repliche di tutte le lezioni live oppure dei brevi tutorial che nella fattispecie sono appunto distribuiti da Google Play. Come si fa a imparare la danza guardando un video? Ecco, oggi anche un piccolo smartphone può essere trasmesso su grandi schermi mediante gadget o cavetti. È molto semplice poter vedere l'insegnante a misura quasi reale su un mega schermo e quindi si ha la sensazione di essere proprio lì. Quanto tempo ci vuole per imparare a ballare? Certo non da professionisti ma insomma da buoni provetti. Noi crediamo che con Dance TV il percorso sia molto breve, comunque nell'ordine di un paio di mesi dipende ovviamente dalla volontà dell'allievo.